L'influenza stagionale non accenna a passare. Nella settimana tra il 15 e il 21 gennaio, secondo il quinto rapporto epidemiologico elaborato dalla Direzione Prevenzione della Regione Veneto, sarebbero stati quasi 11.000 i padovani colpiti dal virus. L'incidenza in Veneto si attesta a 10,93 casi ogni 1.000 abitanti, segnalati anche numerosi casi di complicanze. Tra le fasce d'età, la più colpita è quella dei bimbi da 0 a 4 anni, con un tasso del 42,7 per mille. La seconda fascia pediatrica, dai 5 ai 14 anni, registra anch'essa un tasso raddoppiato con 19 casi su mille. La curva di incidenza regionale risulta in crescita e ha superato i valori massimi registrati nelle ultime quattro stagioni. Il picco della malattia tuttavia non è ancora stato raggiunto e si prevedono nelle prossime settimane ulteriori aumenti che potrebbero portare il Veneto a raggiungere i valori nazionali, come ha spiegato l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto.